Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Beatrice Luzzi potrebbe diventare opinionista del Grande Fratello, dopo le richieste dei telespettatori. L'ex concorrente potrebbe annunciare il suo ritorno durante una puntata di Verissimo. In un'intervista a TAG24 ha parlato del suo potenziale ruolo accanto a Cesara Buonamici. Riguardo a Giuseppe Garibaldi, che ha declinato l'invito al red carpet della mostra del cinema di Venezia, Luzzi ha mostrato comprensione e supporto. Ha anche dichiarato di non voler tornare a recitare in fiction, a meno che non sia un progetto eccezionale. Sulle domande sulla sua popolarità tra i giovani, non ha dato una risposta definitiva. Luzzi ha parlato della sua forza nel resistere alle avversità e mantenere la chiarezza di mente, nonostante il bullismo subito. Ha dimostrato di saper soffrire e di seguire la sua intuizione. Sulla decisione di Giuseppe di non partecipare al red carpet di Venezia per sentirsi inadeguato, Luzzi ha espresso piena comprensione. Ha sottolineato che anche lei si trova dove è oggi per lo stesso motivo, sintonizzata sulla stessa frequenza. Il potenziale ritorno di Beatrice Luzzi come opinionista del Grande Fratello è atteso con interesse dai fan dello show, che hanno espresso il loro sostegno alla ex concorrente. Restate veri se le seconde sferzeo per vero fa ufficio or mille se le qua dinamica con dinamica con Cesare. Buon amici!